Un trapani propositivo emerso dal primo incontro stagionale contro la Cavese. L'allenatore Granata Alfio Torrisi e Mahmoud Kanute, autore del gol, hanno parlato nel post partita. Ascoltiamoli. L'esordio con vittoria, sicuramente le sensazioni sono positive, sono belle perché poi vincere, aiuta a vincere, inizia a far creare, a costruire una mentalità vincente. Il primo turno di Coppa è una delle partite più complicate e più difficili e lo dicono anche i risultati di questa prima giornata. Venire qua a Cava non era semplice, affrontare la Cavese non era semplice, però sono molto soddisfatto della mole di gioco, di come si è comportata la squadra e penso che dopo questa prima partita ufficiale possiamo trarre le prime conclusioni ad una parte di precampionato che sta dando sicuramente i suoi frutti. Sono abbastanza soddisfatto assieme allo staff di quanto visto in campo e quindi ci aspettavamo una prestazione del genere e ne siamo veramente contenti. Abbiamo fatto un primo tempo importante sotto il profilo del gioco, dello sviluppo, della maturità, non abbiamo mai sofferto la Cavese. Dispiace solo che abbiamo chiuso il primo tempo con un gol di vantaggio, dispiace solo che dopo il grande approccio che abbiamo avuto al secondo tempo, i primi dieci minuti abbiamo avuto due o tre palle e gol per raddoppiare, che dobbiamo sfruttare meglio. Questo deve essere un punto da sottolineare e su cui lavorare, perché in Serie C, quando poi le partite non le chiudi, alla fine soffri. Anche se comunque la Cavese ha avuto due occasioni importanti per pareggiare, una sul lancio di 50 metri, dove non eravamo messi bene, Ciotti poteva fare qualcosa di meglio, anche se c'è un mezzo fallo. E' un'altra situazione con Tiro d'Afuori che è stato bravo secolini. Noi abbiamo avuto ancora una volta altre occasioni, però non le abbiamo sfruttate. Fermo restando che nonostante non abbiamo subito tanto, dovevamo chiuderla prima alla partita. E quindi questo deve essere per noi un oggetto, un motivo su cui andare a lavorare, perché le partite vanno chiuse e dobbiamo mettere più cattiveria. L'importante era la vittoria, abbiamo cominciato col piede, diciamo, giusto. Siamo contenti, dobbiamo tornare ad allenarci perché abbiamo un'altra partita in casa tra sette giorni.